Arega buonasera, oggi 2 agosto stiamo a Belmonte in Sabina in Euromut e ci stiamo preparando per una veglia per domani che andiamo in messa a San Pietro dal Santo Padre, da Papa Francesco e guardate qui sono tanti altri scout, oltre al mio gruppo Palestrina 1, Roma 3 e c'è pure Belluno insieme a me e niente ragazzi ci vediamo alla prossima